Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come vedere quanto costa un tuo account Steam ovviamente su un sito che ti ho lasciato in descrizione puoi anche acquistare o vendere un account Steam e su un altro sito invece puoi solamente vedere ogni singolo dettaglio del tuo account e di quanto costa quindi in questo caso vai in descrizione e vai sul link SteamDB tu vai sul calculator inserisci così il tuo id Steam per trovare il tuo id Steam vai su Steam vai sul tuo profilo vai su dettagli sull'account ed eccolo qua copi così il tuo Steam id e lo inserisci qua sopra una volta inserito fai invio ed eccolo qua questo è il valore del mio account ovviamente ho censurato tutto per la privacy, vabbè così e quindi dice prezzo medio, prezzo medio all'ora, ore registrate, tempo di riproduzione medie e qui invece i prezzi di oggi che si riferiscono direttamente ai prodotti che tieni nella tua libreria e qua invece il valore del conto e invece su quest'altro sito Steam ID Pro fai incolla consulta ed eccolo qua valore approssimativo questo è il prezzo del mio account e sotto qua ti dice game bans, back bans, community bans tutto in regola non sono mai stato bannato questo è il totale delle mie ore negli ultimi 5-6 anni tutto qua 2491 ore in 5-6 anni che oggi veramente per un giocatore sono pochissime in 5-6 anni quindi se questo video ti è stato utilissimo su come vedere quanto costa un tuo account Steam iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao